Giampiero Carbone si sarebbe impossessato di qualcosa che non gli apparteneva scatenando la reazione omicida del suo assassino. Potrebbe essere questa la pista principale su cui la squadra mobile di Brindisi ha concentrato le indagini per individuare gli autori del delitto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Rione Perrino. Il ragazzo di 19 anni ammazzato con un colpo di pistola alla nuca è stato invitato a scendere da qualcuno che ha suonato al citofono di casa. Pochi secondi dopo almeno tre colpi di pistola sono richeggiati in via Tevere mentre Carbone si accasciava sul marciapiedi. Ed è su questo punto che si gioca la seconda partita quella che poi determinerà le accuse nei confronti del killer se dovesse essere arrestato. Bisognerà chiarire se egli abbia agito con premeditazione o se la scelta di fare fuoco è maturata dopo una discussione avvenuta davanti al portone della vittima. In ogni caso l'omicidio sul piano penale è aggravato dall'esistenza dei futili motivi che potrebbero portare all'ergastolo a prescindere dalla possibile premeditazione. Il corpo del ragazzo è ancora deposto in una cella frigorifera nella camera mortuaria dell'ospedale Perrino di Brindisi in attesa dell'esame autoptico e di una perizia balistica che non sono stati ancora affidati dalla procura. Una circostanza questa che sembra accreditare è una momentanea situazione di stallo in attesa di una possibile svolta nelle indagini. Il padre di Giampiero non riesce a darsi pace aspettando di riavere il corpo del figlio con la rabbia di aver assistito impotente alla sua uccisione e nei confronti dell'assassino che ha fatto fuoco vigliaccamente alle spalle. E così affida a Facebook le sue emozioni condivise da centinaia di persone. Intanto nel corso delle indagini legate al delitto in una cabina elettrica situata in via Crati, sempre al rione Perrino, a poche centinaia di metri dal luogo in cui Carvone è stato ucciso, i motociclisti dell'Anibio della Polizia hanno scoperto un piccolo deposito della malavita dove erano nascosti due tute scure, un borsone con vari indumenti, uno scooter privo di ruote, la centralina per l'avviamento di auto e un paio di guanti, probabilmente il tutto utilizzato da una banda di rapinatori che è a base nel quartiere.